Iniziano i play-off e bisognerà dare un occhio anche agli altri gironi nel raggruppamento A ad aprire le danze con inizio alle 14.30 il match tra Lecco e Propatria. La squadra allenata dall'ex Brescia De Paola si affiderà in attacco al figlio d'arte Simone Gans. 14 gol in 32 partite così come potrà contare sull'esperienza dell'ex bianco-verde Vedran Seljak. Sulla loro strada ci sarà la Propatria di Massimo Sala che si affiderà alle reti dell'ex ragazzo prodigio dell'Empoli Alessandro Piu. 9 gol in questa stagione. La Provercelli di Franco Lerda guidata dall'ex bianco-verde Gian Mario Comi in attacco autore di 10 gol potrà affidarsi anche a Matteo Della Morte figlio dell'ex Lupo Ivano Leonardo Gatto e Giuseppe Panico. I piemontesi affronteranno la pergole tese di Mariana Rini e Davide Bariti. La Juventus Under 23 di Lamberto Zauli chiuderà la giornata sfidando il Piacenza con un passato inana negli anni 90 guidato da Cristiano Scazzola che per il passaggio del turno si affiderà agli esperti Francesco Cosenza, Filippo Ryacevic e Luca Castiglia. Nel gruppo B ad aprire le danze il Pescara di Luciano Zauri. L'ex Lazio punta sul tridente Clemenza Dursi Ferrari. Autori di 29 gol in tre, l'argentino ex Bari e Pistoiese è stato autentico come in più degli abruzzesi in stagione. 17 reti realizzate. Dall'altro lato ci sarà la carra rese di Infantino. L'angona amatelica di Colavitt e Micciola sfiderà l'Olbia di Kunzi che ha raggiunto un risultato storico. A chiudere il gruppo ci sarà il sorprendente cubio di Torrente, degli ex Bianco Verdi Marco Migliarini e Nicola Malaccari ma anche del player Andrea Cittadino e del bomber Manuel Sarao che sfiderà tra le muramiche la lucchese di Niccolò Belloni.